Musica Seconda edizione di Oratg, bentrovati a voi tutti. Apriamo con il Covid in Sicilia perché si abbassa il numero dei nuovi contagi nella nostra isola nell'ultima 24 ore in rapporto a quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti. Certamente questa è una buona notizia, una brutta notizia che però continua ad esserci un alto tasso di mortalità in Sicilia. Nell'ultimo giorno 34 morti, ma la nostra regione in questa seconda ondata pandemica si segnala purtroppo tra le regioni peggiori relativamente all'incremento del tasso di mortalità di persone con il Covid. Vediamo. Sotto i mille e questa è già una notizia. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Sicilia sono stati registrati 918 nuovi casi di positività al Covid-19 su 8.386 tamponi effettuati. Un report che dimezza nei fatti quanto accadeva appena 10 o 15 giorni fa quando nell'isola si registravano circa 1.809 effetti al coronavirus. E così oggi il tasso di positività scende nell'isola a 10,9%, sebbene si registrino ancora molti, troppi morti, ben 34, il che porta a 1.793 il numero dei deceduti nell'isola con il Covid dall'inizio della pandemia. Il numero invece degli attualmente positivi sommati da odierni sale a 40.246, mentre tocca a quota 1.387 più 20 quello dei pazienti ricoverati con sintomi. scende il valore dei soggetti in terapia intensiva di 8 unità, altra bella notizia, quindi 250 in tutto, mentre in isolamento domiciliare sono confinate 38.654 persone, 384 i guariti di oggi. Dal punto di vista della suddivisione territoriale, è ancora una volta la provincia di Catania a segnare il valore dei nuovi contagi più alto, cioè 448, poi Palermo 257, Messina 104 e via via, ma con numeri ben inferiori il resto delle province, tranne Agrigento, dove non è stato segnato alcun nuovo positivo. Al di là dei numeri, vi ho un dato sostanziale che fa discutere non poco in queste ore. Il tasso di mortalità registrato nelle diverse regioni italiane in questa seconda ondata di contagi, ebbene, la Sicilia rispetto a quanto accadde la scorsa primavera, segna rialzi assai marcati, dallo 0,9% della primavera al 6,2% di questa seconda ondata, preceduta solo in questo scarto dalla Campania. E si temono nuovi rientri di massa durante le festività di fine anno, per tal motivo la regione siciliana sta tentando di attrezzarsi al meglio per controllare perlomeno l'arrivo. Vediamo. Il probabile marcato flusso di rientri nell'isola, previsto per le prossime festività di fine anno, fa scattare un piano di controllo mirato, certamente non ordinario, nei principali punti di approdo, come ad esempio le aerostazioni di Palermo e Catania, e quanto emerge da una ricognizione nei principali scale aeroportuali siciliani congiuntamente svolte dalla regione siciliana e dalle società che gestiscono i due aeroporti per individuare spazi che potranno essere eventualmente implementati con altre postazioni in cui effettuare i test per i viaggiatori in arrivo. Si tratta di procedure standard e che evidentemente dovranno essere potenziate proprio per evitare assembramenti all'interno delle aerostazioni e prima ancora dell'uscita dei passeggeri dagli aeroporti. I sopralluoghi sono solo alcuni degli aspetti organizzativi e dei profilassi promossi dall'assessorato regionale alla salute che predisporrà ogni iniziativa utile di prevenzione, in vista dunque delle festività. All'aeroporto di Catania, oltre alle postazioni già realizzate all'interno del Terminal C, si sta procedendo a individuare altre aree nel Terminal A per poter sottoporre i passeggeri ai tamponi in base ai movimenti previsti. Già durante la seconda fase della pandemia è stato attrezzato l'aeroporto per le verifiche anti-Covid ma queste potrebbero non bastare proprio nei momenti forti dell'anno tra cui il Natale e poi il rientro dopo le festività. Si tratta di provvedimenti che saranno certamente utili in questo periodo ma che potrebbero essere mantenuti nel corso delle settimane auspicando ovviamente la ripresa del numero dei collegamenti con l'aerostazione Etnea ancora notevolmente in crisi pandemica. Nelle prossime ore il Presidente della Regione dovrebbe firmare l'ordinanza secondo la quale verrà eseguito il tampone rapido direttamente in aeroporto e al porto ai passeggeri in arrivo. Obbligo o suggerimento di presentarsi al drive-in per chi viene invece in treno o in autovettura. Non è esclusa la richiesta di rifacimento del test dopo una settimana di arrivo in Sicilia. Per consentire l'esecuzione dei test la Regione siciliana probabilmente chiamerà in servizio in maniera temporanea medici ed infermieri. E screening di massa oggi nel Catanese ad ACI Sant'Antonio e Sant'Agata di Battiati parliamo dei test rapidi al Covid. Screening di massa oggi e domani ad ACI Sant'Antonio e Sant'Agata di Battiati in altri comuni della Sicilia secondo quanto programmato dall'assessorato regionale alla salute per definire il quadro epidemiologico nell'isola ed intraprendere azioni mirate a ridurre la curva dei contagi. Autovettura in fila di buon mattino a Lavinaio, frazione Sant'Antonese dove per l'occasione è stato aperto il campo di calcio montata la tenda che ospite il pool di medici incaricati e rimodulata la circolazione nel tratto interessato che dispone di un ampio parcheggio in attesa del risponso clinico. Il sindaco Santo Caruso è stato uno dei primi a sottoporse ai controlli sanitari. La nostra comunità grazie a Dio non ha avuto tantissimi casi è il momento anche di capire in che situazione ci stiamo trovando in un momento in cui pare che a livello nazionale anche a livello locale è un po' la curva e si stia più attento e quindi è importante avere questa possibilità. È un momento e ringrazio l'ASPO che ci ha dato questa possibilità e ringrazio ovviamente tutti quelli che stanno collaborando a partire dalla nostra associazione di volontariato che sono sempre e costantemente accanto a noi. Avere un'opportunità è importante e io sono convinto che anche i nostri cittadini risponderanno come sempre alla grande. Vedo che c'è molto ordine c'è molto rispetto anche ad aspettare questo momento quindi penso che sia un'opportunità che stiamo sfruttando. I drive-in covid effettueranno i tamponi rapidi dalle ore 9 alle ore 17.30 anche nella giornata di domani nel comune della Cese 19.000 residenti il test previsto inizialmente per studenti e personale scolastico è stato esteso a tutta la cittadinanza sempre su base volontaria. Ecco i dati a conclusione della prima delle due giornate previste a Sant'Agata dei Battiati su 550 tamponi effettuati sono risultati positivi 13 persone di cui 7 provenienti da altri comuni ad Aci Sant'Antonio 305 tamponi e un solo positivo il 9, 10 e 11 dicembre tamponi rapidi anche a Mister Bianco presso il parcheggio Milicia l'appello alla cittadinanza di Francesca Catani è il medico responsabile del drive-in di Lavinaio. è di fondamentale importanza sensibilizzare la popolazione affinché si isolino appunto gli asintomatici purtroppo gran parte della popolazione non sa di essere positiva e inevitabilmente il contagio non può essere arrestato quindi mi rivolgo alla popolazione tutta venite a fare il tampone perché questo significa tanto per i bambini per i soggetti più a rischio soprattutto gli anziani perché in questo modo cerchiamo appunto di limitare non soltanto appunto la malattia in quanto tale ma anche il numero di decessi che purtroppo lo vediamo sta aumentando progressivamente. Il Comune della Cese ha messo in campo la protezione civile l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Corpo della Polizia Locale per regolamentare il traffico lungo via Rosso di San Secondo per l'occasione attrezzata con una corsia di ingresso riservata ai cittadini in attesa del tampone. Un grazie va all'Associazione di protezione civile l'Associazione Nazionale Carabinieri che grazie a loro abbiamo organizzato con i comandanti dei Vigilubani questa giornata oggi e domani per dare la possibilità ai nostri santantonesi di poter effettuare quello che è il tampone e sapere se sono positivi o negativi. Quindi un'opportunità grazie all'ASP che abbiamo oggi dato ai nostri congettini santantonesi. e protestano contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri negozianti dei centri commerciali chiusi nei festivi e nei prefestivi parlano di sperequazione inaccettabile. Sabato sera alle ore 18 via Tennea era così frequentatissima anche per lo shopping sempre alle ore 18 di sabato i centri commerciali Tennei invece erano così al buio in silenzio chiusi parlano di sperequazione evidente i tanti negozianti che operano all'interno dei centri commerciali costretti alla chiusura nei giorni prefestivi e festivi che solo per fare un esempio proprio in questa settimana è significato per loro abbassare le saracinesche dei centri commerciali da sabato scorso a domani martedì insomma due pesi due misure e chi lavora nei centri commerciali è davvero ormai allo stremo qui siamo ai portali di San Giovanni La Punta certo che c'era molto atteso in questo Natale per salvarci ma noi così non ci salveremo neppure attenzione sottolineo per salvarci non per arricchirci in realtà oltre al danno economico c'è anche la beffa perché essendo in zona gialla non avremo nessuna forma di ristoro inoltre si sta verificando una concorrenza sleale in quanto i nostri negozi nei centri rimangono aperti e se si voleva creare una riduzione degli assembramenti questo non sta avvenendo in quanto nelle strade continuano a esserci gli assembramenti nei centri commerciali in realtà noi piangiamo i responsabili dei centri commerciali pensano di impugnare il DPCM guardi noi siamo veramente indignati ci stiamo rivolgendo a tutte le istituzioni ai media perché riteniamo che questa discriminazione che è stata fatta per le grandi strutture come la nostra va a scapito dei nostri commercianti commercianti che hanno investito anni di sacrifici e che occupano veramente migliaia di famiglie tra interni tra diretti e indiretti le dico che io ieri sono stata in Vietnea ieri pomeriggio e ho visto lunghissime file davanti alle maggiori insegne diciamo non faccio il nome perché non mi sembra corretto senza nessun controllo da parte delle forze dell'ordine che ovviamente anche numericamente non possono affrontare quei flussi chiudere centri commerciali vuol dire dare alle persone la possibilità di riversarsi tutte in piazza tutte in strada senza alcuna forma di controllo che invece all'interno di una struttura come la nostra verrebbe garantito probabilmente dunque la norma dovrebbe un attimino essere cambiata ma ormai siamo a ridosso del Natale e c'era molto attesa per il Natale anche perché i commercianti vengono da mesi e mesi di totale sofferenza assolutamente sì speravamo insomma in questo mese del Natale per cercare di salvare il salvabile anche perché con la struttura chiusa i costi di gestione come vede visto che c'è un pullurare di maestranze i costi purtroppo maturano inoltre i commercianti hanno dentro della merce che rimarrà in venduta quindi speravano in questi 24 25 giorni di dicembre di salvare il salvabile ma purtroppo anche i saldi saranno compromessi fortemente compromessi controlli tantissimi pensavamo che essere interpellati e quindi tranquillizzare quelle che erano le autorità le istituzioni preposte e controlli tranquillizzarle era un modo per fare capire loro che evidentemente eravamo un posto sicuro un posto in cui sia i clienti che i commercianti possono venire e fruire dei nostri spazi con grandissima serenità però purtroppo le aspettative sono state totalmente disattese noi come proprietà del centro commerciale quindi la nostra famiglia ha messo davvero le mani in tasca rinunciando ai canoni di affitto il problema è che molte attività non ce la faranno riaprire voltiamo pagina il sindaco di Catania Salvo Pogliese sospeso a luglio da oggi è tornato a Palazzo di Città dopo la decisione del Tribunale sul ricorso oggi riunione di giunta era il 24 luglio scorso Salvo Pogliese tornava dai funerali del grand'ufficiale Luigi Maina per lunghi anni cerimoniere del comune la sera prima il Tribunale di Palermo lo aveva condannato a 4 anni e 3 mesi in primo grado perpeculato per le cosiddette spese pazze all'Ars rientrato a Palazzo degli Elefanti lo aspettava la notifica del provvedimento della profettura di Catania che lo sospendeva per 18 mesi da sindaco adesso dopo ricorso contro la sospensiva accogliendo la richiesta del collegio di difesa di Pogliese sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'applicazione della legge Severino il Tribunale ha trasmesso gli atti della richiesta di annullamento alla Corte Costituzionale e Salvo Pogliese oggi lunedì ha vissuto così il suo secondo primo giorno da sindaco di Catania molto emozionante diverso dal primo dopo la vittoria del 10 giugno del 2018 forse più inaspettato perché con un pizzico di presunzione ma di altrettanta sincerità ero convinto della vittoria del 10 giugno questa vittoria processuale civile amministrativa in realtà non era certa e quindi sotto alcuni aspetti è stata una grande gioia ma sono soprattutto felice di poter continuare a servire la mia città a cui sono visceralmente legato per la quale ho fatto una scelta molto coraggiosa nel 2018 quando ho abbandonato una comoda poltrona da parlamentare europeo con l'immunità parlamentare che Queirole mi avrebbe garantito affrontando un processo certo del mio comportamento etico e morale coerente con le norme è andato male ahimè il 23 luglio oggi abbiamo vinto il primo tempo di una partita molto più lunga su cui poi ci soffermeremo nel futuro ma intanto è importante tornare a servire ventre a terra in trincea la nostra città a cui siamo visceralmente legati voglio ringraziare il vice sindaco Roberto Bonaccorsi gli assessori il consiglio comunale tutto il mio staff per quello che hanno fatto in questi quattro mesi e mezzo molto duri e intensi hanno lavorato benissimo Pogliese riprende il cammino in un momento storico davvero particolare per la città e non solo per la città e sono stati raccolti i frutti di un percorso tracciato mi riferisco ad alcune opere che stanno finalmente partendo con i soldi del patto per Catania o del Pommetro mi riferisco per esempio ad alcuni lavori alla zona industriale in via Palermo molto importanti mi riferisco al concorso dei vigili urbani mercoledì andremo a dare il benvenuto a 30 nuovi agenti della polizia locale oggi la riunione della giunta noi ci siamo sempre confrontati con il mondo sindacale ci siamo confrontati con il mondo imperitoriale noi abbiamo rappresentato un'esperienza amministrativa aperta alla città non ci siamo mai sottratte al confronto e quindi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto non è una novità e quindi è giusto confrontarsi con chi ha esperienze con chi conosce le problematiche con grande umiltà credo che sia stato un elemento caratterizzante della nostra esperienza amministrativa in questi primi due anni e mezzo continueremo a farlo ovviamente non dimenticando le responsabilità di chi ha determinato il dissesto in questa città ma comunque facendo tesoro degli errori del passato di altri per poter fare scelte importanti per servire la nostra città come la nostra città merita tra i primi progetti anche l'impiego di chi è beneficiario del reddito di cittadinanza fra virgolette utilizzare le migliaia di persone in questa città che percepiscono il reddito di cittadinanza la normativa prevede che devono essere impiegati per finalità di interesse collettivo è giusto che ciò venga fatto il covid non ci ha aiutato in tal senso chi vi parla non ha mai fatto mistero di non aver totalmente apprezzato questa scelta del governo nazionale che ritengo sia assolutamente devastante dal punto di vista demagogico perché invita i nostri giovani a non lavorare ma comunque le leggi sono quelle bisogna rispettarla se c'è una legge se ci sono migliaia di persone in questa città che percepiscono il reddito di cittadinanza è giusto che servano la loro città e tra un impegno e l'altro accompagnato dal presidente del comitato dei festeggiamenti Agatini e dal parroco della cattedrale Barbaro Scionti il sindaco si è recato ai piedi di Sant'Agata per salutare la patrona di Catania Cronaca resta in carcere da Paolo Bastianini l'omicida di fratello Leonardo Grasso di 78 anni ricorderete quanto è accaduto alla tenda di San Camilla riposto sabato scorso oggi l'interrogatorio di garanzia all'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere si è svolto questa mattina davanti al GIP Pietro Currò l'interrogatorio di garanzia del 52enne accusato dell'omicidio di fratello Leonardo Grasso e dell'incendio divampato nella tenda di San Camillo a riposto l'ospite della struttura Reo Confesso dell'assassinio aveva già reso parziali ammissioni dopo un lungo interrogatorio davanti al PM Angelo Brugaletta ai carabinieri e al suo legale Alessandro Vecchio il 52enne ha raccontato di aver cosparso di alcol il responsabile della comunità mentre dormiva e di aver appiccato il fuoco ma ha invece smentito di aver prima colpito a bastonate il frate Camigliano una versione che non convince gli investigatori l'incendio infatti potrebbe essere stato solo un modo per nascondere le tracce della brutale aggressione restano ancora da ricostruire diversi passaggi e volti nel mistero per questo la procura di Catania ha disposto l'autopsia sulla salma del prelato oggi pomeriggio l'incarico al medico legale si indaga anche per far luce sulle ragioni del terribile gesto che l'omicida ha ricondotto alla sfera dei rapporti personali ma restano molti dubbi e nodi da sciogliere sulla sconvolgente vicenda che vede come teatro la struttura di recupero di tossicondipendenti l'indagato si trova nel carcere di Caltagirone tre anni fa prima di entrare in comunità aveva accoltellato l'ex convivente ed il padre di lei proseguiamo ancora con la cronaca la DIA di Catania ha sequestrato beni per 2 milioni di euro a Raffaele Donzelli imprenditore nel settore della plastica ritenuto vicino alla mafia di Vittoria nel Ragusano altro duro colpo alla mafia e ai patrimoni illecitamente accumulati nel settore del recupero e riciclo della plastica beni per 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla direzione investigativa antimafia di Catania su provvedimento del Tribunale Etneo nei confronti di Raffaele Donzelli 47 anni già arrestato per bancarotta fraudolenta nel maggio del 2019 tra i beni sequestrati dalla DIA ci sono due aziende d'abbigliamento due auto un motociclo conti correnti e disponibilità bancarie il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su proposta del procuratore Etneo e del direttore della DIA Donzelli è ritenuto legato al clan dominante Carbonaro operante a Vittoria anche i familiari dell'imprenditore erano finiti nei guai nell'ambito dell'indagine sfociata nell'arresto era scattata di fatti pochi mesi dopo una misura preventiva nei confronti del padre Giovanni Donzelli accusato di aver avuto rapporti con l'associazione di stampo mafioso riferibile alla Stida offrendo rifugi e covi e latitanti e mettendo a disposizione la propria casa per le riunioni fra l'organizzazione mafiosa vittoriese e quelle appartenenti ad altri clan per la DDA l'associazione mafiosa avrebbe reimpiegato proventi illeciti in attività imprenditoriali riferibili a Raffaele Donzelli e avrebbe aiutato le aziende a sbaragliare la concorrenza servendosi di metodi criminali come l'intimidazione sistematica ciò sarebbe emerso anche da numerose intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dello stesso indagato la sua affiliazione al clan dominante Carbonaro è testimoniata da numerosi elementi raccolti confluiti nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'ottobre 2019 confermata si legge nel comunicato stampa del tribunale del riesame un mese più tardi numerosi collaboratori hanno inoltre chiarito come lo stesso si fosse arricchito utilizzando il denaro frutto delle estorsioni gestite dal gruppo dominante Carbonaro dal punto di vista patrimoniale la DIA ha accertato l'assenza in capo alla famiglia Donzelli di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti ed una cuspicua sproporzione tra i redditi dichiarati e del patrimonio posseduto è stato il sistema di allarme a mettere in fuga il rapinatore accaduto in una stazione di servizio di Fondachello lungo mare di Mascali nel zona Etne vediamo tentativo di furto con effrazione nella tarda serata di ieri in una stazione di servizio di carburante in via spiaggia a Fondachello di Mascali un individuo utilizzando una grossa pietra ha tentato di scardinare il piccolo box nel tentativo di portare via il registratore di cassa immediatamente però è scattato il sistema di allarme azionando l'emissione anche di fumogeno così il ladro ha preferito darsela gambe dopo aver frantumato la vetrata le telecamere di videosorveglianza hanno registrato il tutto e le immagini sono adesso all'avvaglio degli inquirenti per cercare di risalire all'autore del gesto tramite l'antifutto sono stato avvertito mi è arrivato all'allarme che era scattato il nebbiogeno di solito il nebbiogeno scatta con qualche vibrazione o comunque per tentato furto ci siamo accorti tramite il sistema di videosorveglianza che c'era un furto e abbiamo subito avvisato i carabinieri di Mascali della stazione di servizi di Mascali è stata una bravata e volevo comunicare che in un gabbiotto prodotto di vetro non possono trovare nulla all'interno più che altro c'era soltanto un computer che non è nemmeno un ferro proprio computer serve soltanto per azionare le pompe quindi magari per le prossime volte eviterei di rischiare un tentato furto o un furto per niente quindi soltanto danni alla struttura che adesso dovrà riparare sì sì soltanto danni che dovemmo riparare perché altro noi insieme alla società quindi solo danni e niente all'interno non c'era contenuto niente di prezioso o di valore quindi è stato soltanto così il tentativo di un balordo sì 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 ripeto è stato un abbravato un ragazzo sicuramente non so cosa pensava di trovare ma non sono nemmeno riusciti ad arrivare all'interno che con i sistemi che abbiamo comunque di antifurto abbiamo messo subito in fuga il sistema di videosorveglianza ha registrato tutto adesso saranno svolte le indagini dagli organi competenti certo hanno già tutti i carabinieri ci penseranno loro sicuramente a Giarre riesplode il caso Gettonopoli in quali termini lo vediamo nel servizio polemiche a Giarre per una presunta a Gettonopoli la vicenda trae spunto da un esposto presentato dall'ex presidente del consiglio comunale Raffaele Musumeci che ha tirato in ballo l'attuale presidente del civico consesso Longo nonché l'attuale amministrazione comunale ipotizzato un danno erariale per la mancata restituzione del 30% delle indennità destinate agli amministratori il primo cittadino Angelo Danni in merito preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni diversamente invece dallo stesso Musumeci io nel mese di aprile prendendo spunto da una segnalazione fatta precedentemente dal presidente del consiglio il dottor Longo ho riuscito a portare la procura della corte dei conti l'assessorato e la corte dei conti in merito al fatto che nel mese di luglio su determina dirigenziale è stata tolta quella misura correttiva che portava alla riduzione al 30% dell'indennità che era una misura strutturale che riguardava quel piano di riequilibrio approvato nella consigliatura precedente ritengo che quella misura fatta con dei termini dirigenziali innanzitutto ha numerose pecche di legittimità che ho fatto presente sia all'assessorato sia alla corte dei conti perché non poteva essere tolta inoltre c'è un fattore morale il fatto morale è che quella misura che era stata scelta come riduzione che poteva fare riferimento alla possibilità di evitare dissesto al comune di Giarre è una misura che rimaneva in vigore fino al 2022 quindi moralmente è biasimabile questo atteggiamento perché era doveroso da parte di chi doveva in qualche modo rispondere alla città sotto il profilo amministrativo non è stato fatto poi c'è un vizio di secondo me di legittimità e su questa sponda la corte dei conti si è espressa dicendo che ho perfettamente ragione e che quindi quella giunta che si è attolto quel 30% sull'indennità deve restituire le somme che fino ad oggi ha percepito devono restituire le somme da luglio 2017 ad oggi per il resto aspettiamo che l'ufficio competente che ha avuto un'attribuzione di delega debba provvedere a fare i conteggi e a recupero delle somme che sono somme che servono ai cittadini giarressi dell'indennità diciamo che vanno a sommarsi a quelli che sono i cosiddetti danni erariali presunti della famosa gettonopoli che è un anno di che se ne parla e se ne discute e che a breve mi attendo che il commissario regionale nominato appositamente per questa fattispecie porti una relazione che confermi che il comune di Giare debba recuperare delle cifre erogate erroneamente che oscillano intorno a un milione di euro Ad Acireale la fermata ferroviaria Cappuccini lavorerà all'inizio entro il mese di aprile del prossimo anno I lavori di realizzazione della fermata Cappuccini Belvedere di Acireale prenderanno il via ad aprile del 2021 e quanto emerso dalla riunione che si è svolta stamani tra l'assessore l'urbanistica Carmelo Grasso il responsabile investimenti per la Sicilia e la Calabria di RFI Salvatore Leucata e i dirigenti dell'ufficio tecnico giudice e domina presso gli uffici comunali di via degli olivi l'incontro ha permesso di definire gli ultimi aspetti tecnici sulle rispettive competenze l'amministrazione comunale finanzierà il progetto con una spesa di 600 mila euro destinata alla costruzione dei passaggi pedonari mentre RFI provvederà alle opere di propria competenza intanto dal ministero alle infrastrutture sono arrivate rassicurazioni sulla dotazione di 5 milioni di euro che erano stati tolte dal capitolo in favore dell'emergenza covid scelta che aveva sollevato qualche apprezzione in città sulla reale intenzione del governo di finanziare l'opera che una volta completata darà impulso alla mobilità cittadina nei collegamenti con la vicina Catania e l'aeroporto di Fontana Rossa attraverso lo scambio intermodale con la costruenda metropolitana intanto sono state avviate gli atti di esproprio attraverso la variante al PRG secondo le procedure riservate alle opere di pubblica utilità dello Stato un passaggio fondamentale per definire gli ultimi incartamenti e dare il via ai lavori dell'attesa fermata a Cappuccini i cui carotaggi di verifica geologica dell'aria sulla tenuta del sottosoro eseguiti dall'ente ferroviario hanno dato esito positivo la nuova stazione ferroviaria sorgerà tra la statale 114 e piazza Cappuccini a ridorso del centro storico restituendo la piena funzionalità al trasporto su rotaie penalizzato dalla scelta adottata nel passato con il decentramento in periferia della stazione ferroviaria a conclusione della riunione odierna abbiamo sentito l'assessore all'urbanistica Carmelo Grasso le novità sono sicuramente importanti e fra l'altro vorrei anche tranquillizzare rispetto a questa vicenda che l'amministrazione ha seguito sin dall'inizio con grande attenzione oggi abbiamo ci siamo visti per curare gli aspetti importanti che sono relativi alle fasi amministrative che poi potranno fare sì una volta completate che nel primo semestre del 2021 quest'opera possa vedere la luce quindi l'incontro di oggi è stato positivo abbiamo determinato i passaggi che saranno a carico di RFI e che saranno a carico del comune e quindi mi sento di poter dire che l'Ignere Leocate è assolutamente operativo perché i finanziamenti che il ministero delle infrastrutture aveva assegnato a quest'opera a breve dovrebbero essere nuovamente resi disponibili il comune di Acireale operativo e oggi sono qui con l'ingegnere giudice e l'ingegnere domine i nostri dirigenti dell'area tecnica e dell'urbanistica per mettere su bianco su quelle attività che da qui ai prossimi 15-20 giorni dovranno essere espletati dal comune di Acireale e da RFI e saranno sanciti da un ulteriore protocollo d'intesa le previsioni meteo per la giornata di martedì 8 dicembre 2020 il maltempo insisterà ancora sulla Sicilia previste piogge anche a carattere temporalesco quasi in tutte le province mari mosso in particolare il Tirreno e il Mediterraneo venti ancora sostenuti le temperature nell'isola oscilleranno dai 18 gradi agli 8 a Catania 18 gradi la massima 10 la minima